Saluto Ghirardello, amministratore e delegato di Fano Pitaglia. Siamo presenti alla ventinovesima BIMU al padiglione 11 stand F40. La presenza di Fano Pitaglia quest'anno è molto importante. È la prima volta che ci presentiamo con la nuova organizzazione. Un centro unico in cui il cliente può trovare tutti i prodotti necessari a migliorare la propria produzione e la propria qualità. Macchine utensili, robo industriali e controlli numerici necessari per lo sviluppo di nuove macchine utensili.